La nostra tappa di Firenze è finita, è il secondo anno che siamo qui. Abbiamo ascoltato storie diverse che ci hanno permesso di vedere anche nel profondo una realtà di lavoro tipica della regione e di luoghi della Toscana e d'altra parte anche di confrontare questa realtà con una realtà globale del mondo del lavoro e quindi dei problemi che si trovano a affrontare i direttori del personale in questo momento che non è facile per nessuno. Però proprio perché non è un momento facile credo che sia utile mantenere aperte queste occasioni d'incontro per staccare per una giornata dal quotidiano, dagli impegni di lavoro anche pressanti e concederci quindi la possibilità di riflettere e di ragionare su quello che stiamo facendo. Abbiamo avuto dei buoni contributi soprattutto con delle introspezioni nell'ambito della moda che qua a Firenze è uno dei settori che hanno più presa e quindi ha dato anche un interessante spaccato su quello che possa essere l'opportunità sia a livello di aziende come noi sia a livello degli altri partecipanti e penso anche ai candidati o a chi cerca lavoro. Da parte nostra c'è stata la piacevole sorpresa di trovare comunque un humus fertile per continuare ad approfondire le relazioni con le aziende che operano in una regione importante come la Toscana che è a livello nazionale comunque fra le prime 5 e 6 e quindi rappresenta per noi un importante potenziale da continuare a sviluppare nel futuro. Direi che i discorsi sentiti sono stati stimolanti e che mi ha fatto piacere avere l'occasione di parlare, abbiamo incontrato gente interessante e poi in particolare complimenti per essere riusciti ad attrarre molte persone di buon livello. Rp. Vorbamoto Vorbanza Rp. 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 E jerry resta convegni siano un momento molto utile di scambio sicuramente tra i partecipanti di confronto. Noi oggi abbiamo parlato di un tema sicuramente all'ordine del giorno che è quello della flessibilità, dell'esigenza di flessibilità e chi più di noi conosce il valore della flessibilità. Ce lo chiedono i nostri clienti e noi cerchiamo di trovare delle soluzioni ad hoc per le esigenze delle aziende sul territorio. Ogni azienda ha una storia e un'esigenza a sé e noi come esperti cerchiamo di fare un'analisi approfondita dei bisogni e di fornire la forma di flessibilità più adeguata all'esigenza dell'azienda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.